Samash, New York City, 34esima strada, 333, uno dei più grandi negozi di New York che abbiamo subito il reparto di Massa. Accente, molto accente. E' un pollo che si parlavamo. E' un pollo finito. ma è wood, ma è me oh, you know, see what I mean what happened to the tags? oh, I gave it to Lewis I love those maces I like the Mexican females it's a lot happening it's like I was just doing a very quick instead of fakes you have a lot of people they're great yeah they're great yes we're really doing here and here 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 is Grazie a tutti 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 Grazie a tutti